spiegati? le fotografie sono importantissime per quello facciamo le foto a tutti perché dalle foto vedi tante cose che normalmente se io ti mando le impronte dei denti non vedresti vedi che non devi seguire la linea che congiunge questa commisura labiale con questa perché le labbra sono sempre storte la regola è che il viso è sempre storto lato sinistro dal lato destro la linea di repere che tu devi prendere in realtà è la linea dell'orizzonte ok quella è la linea di repere che tu devi prendere se no puoi prendere la metà del viso però delle volte hai anche visi che sono a luna storti così mai prendere la bipupillare perché più delle volte gli occhi sono sempre disassati ok invece tanti fanno l'errore prendendo come punto di riferimento gli occhi gli occhi ti faccio i denti storti poi c'è un paziente con i denti e gli occhi così invece l'ideale è sempre prendere l'orizzonte la linea orizzontale quando andrete in clinica anzi passate in clinica fatevi dare i libri fradeani i libri di fradeani portatelo il libro ve lo faccio vedere dove ci sono spiegate tutti questi punti il riferimento poi si fanno delle foto extra orali e intra orali le intra orali si possono anche accoppiare con quelle extra orali le metti in sovrapposizione ciao ciao